la coscienza vorrei sapere che è questa coscienza che ha spesso a giustamente il numero di persone che è sperato di fare la conoscenza spiegatemi che vuol significare ha giustificato la maestra di scuola che tiene scuola all'università ma ha detto figlio mio questa parola si usava sì ma tanto tempo fa ora la coscienza si è disintegrata poco sono rimasti chi lì là che a sta parola restano attaccate che vanno con onore e dignità ma c'è la segna vuoto il peculato a cambialetti queste cose c'è mariole ce ne stanno attimollate tutte specie e tutta qualità o vicerilla o rosse o gigantesche chi le sanno come hanno rubato e chi è denunzio a chi sta chi si mesca su piacere e se non è chi ti fa fa ma l'oglio lo fanno con sapone piazza o burro e mucca da fanno un macato a pasta o pane a carne cose pazze si è aumentata la mortalità e medicina poco t'hanno fatta t'hanno embriagato pure quelli là si sono uno sciroppo ma d'accato ringrazio a dio se si è qui d'accampato ecco la pozzeria certi famiglie capello un gol fanno a capolà marito moglie mamma sora figlie fammi stare zitto non mi fa parlare perciò marito sto maestro di scuola sta conoscenza tu perché avevo fa nessuno ha così più che sta parola muoviene tu e avevo ripristinato insomma tu vuoi controcorrente ma sta pensate chi ti ha fatto fa ha gente ma solo così è contente senza coscienza potete accampare grazie 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 grazie